ciao a tutti draghi io sono eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video ed oggi sono qui davanti a voi non con un gioco ma semplicemente per ringraziarvi molto banalmente approfitto di questo video per innanzitutto farvi gli auguri di un buon 2021 in base a quando state guardando questo video probabilmente siamo già nel 2021 ci siamo lasciati alle spalle questo odioso 2020 artefice di come dire eventi catastrofici in tutto in tutto il mondo non so quanti di voi abbiano vissuto bene o male questa pandemia globale praticamente però il 2020 è terminato speriamo che questo 2021 sia leggermente migliore dell'anno precedente e via auguri questo però non vuole essere un video unicamente pensato per farvi gli auguri di buon anno sono qui con la mascotte del del canale drake anche per ringraziarvi e qui abbiamo la seconda cosa che volevo dirvi che è sempre un ringraziamento per avermi supportato e sopportato durante tutto quest'anno penso che molti di voi l'avrete notato il canale è cresciuto tantissimo durante quest'anno vi sono stati molti più video su warframe hanno preso praticamente il controllo se vogliamo del canale sono quasi 90 95 per cento dei video fatti quest'anno non me ne pento perché è un gioco che adoro è probabilmente il mio gioco preferito warframe quindi ci sta le guide vi piacciono stanno avendo successo c'è stato un incremento di c'è stato un incremento di iscritti di visual di invece di bellissimi commenti da parte vostra e per questo ovviamente non posso che ringraziarvi per chi non lo sapesse c'è stata anche una bellissima novità sempre sul fronte warframe sono diventato ormai un paio di settimane fa creator di warframe la digital extreme mi ha fatto questo regalo di natale per così dire quindi spero chiaramente che i contenuti che vado a portarvi ne tragano un giovamento avrò alcuni warframe alcune armi prima degli altri non farmarle praticamente questo per portarvi in teoria almeno contenuti più velocemente e basta perché la qualità essenzialmente resterà la stessa ci sono novità anche per voi chiaramente riprenderanno i giveaway non su youtube ma sul canale viola sul canale twitch trovate il link in descrizione è lì che ho sempre fatto il giveaway ed è lì che continuerò a farli mi piace molto l'immediatezza della piattaforma che offre appunto twitch quindi banalmente il parlare direttamente a voi quindi anche fare il giveaway davanti a voi non dura tantissimo dura forse un paio di ore due tre ore ecco non di più però ecco funziona come format quindi perché cambiarlo inoltre vorrei chiedervi anche scusa se non sono più usciti video di cucina sul canale lo so che sono sono rari sono delle chicche non esce uno ogni tanto un ogni due mesi una cosa così purtroppo ho avuto un piccolo problema al lavoro non ce l'ho più il lavoro mi sono tipo rotto un pezzo della della tibia praticamente cammino con le stampelle ne ho due di queste e quindi è un po un problema muovermi per casa ed è anche un problema cucinare chiaramente quindi per adesso mi spiace ma quei contenuti non ci saranno riprenderanno spero da metà a fine gennaio una cosa di questo tipo ecco ed inoltre sto cercando anche un altro gioco da portare sul canale oltre a warframe lo so che lo adorate come lo adoro io però non vorrei che il canale diventi monotematico su warframe non smetterò mai di fare video su warframe finché mi piacerà il gioco e contenuti che ci saranno sul gioco ovviamente però vorrei accompagnarlo ad altri giochi quindi questo 2021 sarà anche una ricerca di un nuovo gioco magari un morto che ho visto che li adoro per portarvi sempre guide perché quelle mi piace fare ho parlato anche troppo perché poi giustamente doveva essere un video breve di auguri di ringraziamenti quindi non ha senso durare troppo tempo per cui vi lascio ai vostri festeggiamenti nel caso in cui state guardando questo video il 31 di dicembre o vi lascio ai vostri affari in base a quando state guardando questo video se non lo avete già fatto vi invito perché no di iscrivervi al canale lasciare anche un mi piace a questo video nel caso in cui chiaramente vi piacciono questi contenuti vi rinnovo ancora una volta gli auguri di buon anno e i miei ringraziamenti per avermi supportato per tutto quanto questo tempo grazie a tutti io sono eterion e spero di rivedervi alla prossima ciao raghi iscriviti al canale